La storia di una donna e della fabbrica di matite più famosa al mondo. Ottilie, desidero che dopo la mia morte assuma tu la direzione della fabbrica. Sei forte e intelligente. Devi trovare la tua strada. L'uomo al tuo fianco deve essere molto di più che un bel giovane innamorato. Ti sto pregando di lasciare che Ottilie von Faber sposi me. Hai bevuto, Castel? Sei una lottatrice così come lo sono stato io. Non permettere a nessuno di toglierti il tuo destino dalle mani. Te lo prometto, nonno. Poiché fino alla maggiore età o il potere di firma per conto di mia nipote, sarò costretta a farne uso. Voglio che diventiate mia moglie. Siete sicura di volerlo? In prima visione, Ottilie von Faber-Castel. Fuoco! Sabato 28 novembre alle 21.25 su Rai 1.